Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Stefano De Martino ha portato una ventata di novità ad Affari Tuoi, dimostrando grande disinvoltura nella conduzione del popolare show serale. Sin dall'inizio, gli ascolti sono stati eccellenti, confermando il suo talento come intrattenitore e mantenendo milioni di telespettatori sintonizzati su Rai 1. Tuttavia, è stato ufficialmente annunciato che il gioco dei pacchi subirà una pausa temporanea a partire dalla fine di settembre, per fare spazio a Ballando con le stelle nel palinsesto del sabato sera. Millie Carlucci prenderà il posto di De Martino con il suo celebre programma di ballo, che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione autunnale fino a dicembre. Questo cambio di programmazione è soltanto momentaneo. Dopo la conclusione di Ballando, Affari Tuoi tornerà nel suo abituale slot del sabato sera su Rai 1, nonostante il dispiacere di alcuni fan per la pausa. Molti si dichiarano entusiasti del ritorno di Ballando con le stelle, uno dei programmi più seguiti della rete. La nuova stagione di Ballando promette di offrire spettacolo ed emozioni, grazie a performance coinvolgenti e coreografie mozzafiato che sapranno catturare l'attenzione del pubblico. Affari Tuoi, nonostante l'interruzione, continua a essere uno dei programmi di punta di Rai 1, grazie al carisma del suo nuovo conduttore e al format collaudato del gioco. La scelta di sospenderlo temporaneamente è stata fatta per ottimizzare l'offerta del sabato sera. Garantendo una varietà di intrattenimento tra gioco e spettacolo. Il ritorno dello show è previsto per dicembre, dopo il termine della stagione di Ballando con le stelle, e i telespettatori potranno nuovamente godersi il celebre programma guidato da De Martino. E tu, cosa preferisci tra Affari Tuoi e Ballando con le stelle?